Francesco per prima cosa che cosa è davvero il cloud oggi? Il cloud oggi è un abilitatore un abilitatore per i servizi. Detto del cosa spiegaci a cosa serve e a cosa non serve il cloud? Come ho già detto serve per avere una piattaforma che eroghi dei servizi, non serve a spendere meno perché serve a pagare quello che si va a utilizzare, quello per cui si usufruisce e serve a garantire la sicurezza dell'informazione. Ok Francesco mi hai quasi convinto, raccontaci quali sono le regole per una corretta migrazione, da dove si parte, come si comincia? Beh, prima di tutto si cerca di capire quello che si ha in mano e questo si ottiene attraverso un assessment, per cui si guarda quali sono quelle applicazioni o addirittura tutto quello che è un sistema informativo e come si può portare in cloud. Diciamo che iniziamo proprio dall'ESIS. Francesco e se qualcosa va storto non capita, ma se capita che cosa succede? Ma allora qualcosa può andare storto, prima dicevamo che partiamo da un assessment, in realtà oltre l'assessment possiamo anche permetterci di fare una POC, per cui si va a provare qualcosa che siamo più consapevoli che possa essere trasferito e qualcosa che siamo più certi che ci darà dei problemi. In questo modo non si arriva in destinazione subito e evitiamo il dover ritornare indietro, ma se proprio dovessimo tornare indietro la cosa è fattibile. Logicamente non è gratuita, per cui l'importante è cercare di far bene e di fare un design, un passaggio corretto. Francesco, tra tante offerte e input che stanno arrivando sul mercato alle aziende a livello di cloud, di nuvole, perché proprio tutti i TecnoSistemi? Perché TecnoSistemi è un sistema integrator. È quello che grazie a un'offerta trasparente e alla sicurezza dell'informazione e alla sicurezza stessa del dato, può far sì di essere il mezzo di trasporto verso la destinazione cloud. Oggi il mercato offre cloud pubblico, cloud privato, tutto quello, hybrid cloud. Lato soluzione tecnologica è facile scegliere qualsiasi cosa. Poi serve una TecnoSistemi, anzi serve la TecnoSistemi che prenda il cliente per mano e lo accompagni in un viaggio dove la destinazione è sicura e trasparente. Questo è il motivo per cui la TecnoSistemi può fare la differenza per il cliente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS